A Milano c'è una galleria d'arte sacra tutta dedicata ai contemporanei. In realtà sono già passati diversi decenni da quando all'epoca dell'allora arcivescovo Montini, poi Paolo VI, si ebbe questa intuizione. L'arte sacra ma vista con gli occhi dei contemporanei. E allora in questa villa, Villa Clerici, alla periferia settentrionale di Milano, cioè Aniguarda, ecco appunto l'apertura di questa galleria che espone in maniera permanente delle opere interessantissime di questi ultimi 50, 60, anche 70 anni e periodicamente nei tempi forti propone mostre e percorsi tematici nuovi, come quello che è stato appena inaugurato dal titolo evocativo, Sipario, ed è dedicato proprio al momento, diciamo così, della morte di Gesù, ovvero dalla crocefissione alla risurrezione, prima della risurrezione. Sono immagini splendide, bellissime, anche se veramente toccanti, emozionanti, tristi di una grande sofferenza. Ci sono vari autori, anche molto importanti, alcune opere sono note, altre tutte da scoprire, altre ancora assolutamente inedite, recuperate proprio in quello straordinario deposito, archivio che è proprio la galleria d'arte sacra dei contemporanei. Apre questa rassegna una tavola, un olio su tavola del 1954 con la crocifissione, con il centurione che con la sua lancia squarcia il costato del Cristo crocifisso, tra lo stupore generale, tra il pianto degli uomini e anche il pianto degli angeli stessi. Un'opera bellissima, fatta da un giovane artista che allora aveva appena vent'anni, Floriano Bodini, che sembrava ancora incerto se la sua strada fosse quella della pittura o quella della scultura, come poi è stato. E poi questo percorso continua, veramente con altre opere interessantissime, come quella di Lello Scorzelli, ad esempio. Anche lui scultore, scultore importantissimo, al tempo di Papa Montini, la sua croce pastorale, la ricordiamo tutti, nelle mani di San Giovanni Paolo II e ancora di Papa Francesco, ma qui in mostra a Milano ci sono i suoi disegni con la discesa dalla croce, disegni che hanno vent'anni di differenza, uno è dei primi anni Sessanta, l'altro alla fine degli anni Settanta, dove c'è questa umanità come fantasmi che lottano proprio contro la gravità per far calare dalla croce, questo corpo morto, di colui che parlava della vita eterna, ma che la vita non ce l'ha più. E poi proseguendo, ad esempio con l'opera di Francesco Messina, famosissimo scultore, qui a una stazione della Via Crucis, il corpo deposto dalla croce di Cristo che è tenuto da una parte da Nicodemo e dall'altro la Maddalena. La Maddalena che ancora carezza a quei piedi che già aveva proprio bagnato con le sue lacrime, con il profumo, asciugato con i suoi capelli e dall'altra parte l'uomo che con Gesù durante quella notte aveva parlato con lui del mistero più grande e più profondo. Gesù gli aveva profetizzato bisogna che io sia innalzato come il serpente di Mosè nel deserto. E poi verso la conclusione, quella conclusione che è un sepolcro nero, una bocca vuota, tenebrosa, come un mostro terribile. È lì che il corteo sta portando proprio il corpo di Cristo nel dipinto di Vanni Rossi, un altro straordinario proprio pittore degli anni 60. Ebbene, qui si ferma anche il nostro percorso, qui ci fermiamo noi proprio all'ingresso di questo sepolcro. Gesù è morto, noi siamo in attesa, siamo in speranza, non ci resta che piangere e attendere.